Musica Oggi vi racconterò una disavventura che abbiamo avuto nel quartiere di Corviale Voi direte che quartiere è Corviale? È un quartiere con tanti palazzi, con tante vie? No, Corviale è un quartiere con un palazzo solo Cioè un palazzo che fa un quartiere Un palazzo che contiene migliaia di famiglie Un palazzo lungo un chilometro E lì abbiamo avuto questa disavventura per colpa di un cretino A chi non interessa questa storia Gli consiglio di andare a fare un bel frappè di banane con le chiappe Scuola di botte Siamo di scuola di botte e meniamo tutti I bulli, i ciccioni e quelli brutti Se tu vuoi vincere colpisci il sotto Non la faccia, non la spalla Nemmeno il naso rotto Cicalone ti insegna i pugni molto utili Ma se fai il tuo potente diventano inutili Se tu sei ciccione Noi ti aiutiamo Da oggi basta In questa storia è coinvolto un personaggio alquanto discutibile Tale Erpugiletto Erpugiletto era un finto povero In realtà era ricchissimo Ma ancora più ricco era lo zio Proprietario di negozi enogastronomici in tutta la capitale Praticamente Erpugiletto cercava di vestisse da finto povero Da finto coatto Si metteva in gilet, mischiava le cose Poi se sbagliava gli cascavano un mezzo e un paio di scarpe da 300.000 lire Una maglietta da 150.000 lire Parlo in lire ragazzi perché è una roba molto vecchia come storia E Erpugiletto un giorno decise che doveva andare a Corviale per fare una cosa Siccome lui era uno da rumabene Ricco, finto, povero Che diceva di essere stato Pugiletto Ma non lo è mai stato Pugiletto Se non per andarsi a comprare centinaia e centinaia di mila lire di attrezzatura da Pugiletto Cercava qualcuno che lo accompagnasse E trovare qualcuno che ti accompagna nella Roma Bene non è mai facile Trovò un ragazzo che era della mia zona e frequentava la Roma Bene Sto ragazzo della mia zona si informò su chi era stato a Corviale o su chi conosceva Corviale Girai, girai, gli dissero Ma guarda che c'è stato Simone a Corviale Perché ero stato a Corviale? E qui vi devo raccontare una sottostoria praticamente Qualche anno prima accompagnai due miei amici a Corviale Perché uno dei due amici, quello che aveva un figlio di sei anni Si era fissato che il figlio doveva frequentare una palestra di Pugiletto Perché doveva diventare un grande campione E si era fissato che la palestra di Corviale era quella più indicata Perché c'era la giusta mistura di cattiveria, emarginazione, voglia di vincere, avversari forti Non lo so chi ha messo un testo a st'idea Questo nostro amico, quello col figlio, aveva avuto un figlio giovanissimo a 17 anni Voi figuratevi E cambiava idea un giorno sì e l'altro pure Quel giorno la sua idea era andiamo a segnare mio figlio a Corviale Perciò ci munimmo di motorini Due motorini, uno col figlio e uno con l'amico E andammo a Corviale Ovviamente da casa nostra andà a Corviale era una scarpinata Abitavamo tutti in quartieri differenti Però era comunque una scarpinata Arrivati a Corviale non ti sbagli Ti trovi un palazzo e sotto a sto palazzo una palestra Entriamo in quella palestra e ovviamente lì dovevamo discutere Per far segnare sto bambino in palestra Che era già una cosa particolare A Corviale Io che frequentavo da più tempo le palestre Feci il mediatore Incontrai subito il maestro Il maestro è una persona gentilissima Si presentò Buonasera Mi chiamo così e così Sono il maestro Una cosa subito che mi colpì del maestro Che non era vestito da maestro Cioè non c'aveva la tuta Non c'aveva tutte cose Era vestito da passeggiata domenicale Però c'aveva un bel cane lupo Vecchiotto ma bello Sto cane lupo bello grosso stava accanto a lui E c'erano gli allievi che correvano e si allenavano Correvano, portavano i colpi, muovevano le braccia E io gli chiesi Guardi, noi vorremmo segnare sto ragazzino qua in palestra Perché ci hanno detto che è una delle migliori palestre Perché il padre si è fissato Che comunque vuole fargli fare carriera Sto ragazzino è molto motivato Il bambino c'aveva un difetto Era veramente incontrollabile Era uno di quei ragazzini pestiferi Perciò lo voleva segnare in palestra Convogliare tutta questa sua energia Nel pugilato Mentre facevo il discorso con sto maestro Tutto educato, tutto preciso A un certo punto guardavo pure il cane Perché mentre noi ci eravamo messi Girati verso una parte Il cane continuava a guardare gli allievi A un certo punto Un allievo si ferma Vede il cane che gli abbaia E il coso riparte Un altro allievo rallenta un po' E il cane gli abbaia Uno fa male all'esercizio E il cane gli fa uno scatto vicino A quel punto Non la voglio interrompere Ma il cane veramente riesce a tenere sotto controllo la lezione? Beh fai come no E il cane sta qua apposta Se uno si ferma gli abbaia Se uno si sbaglia gli morde Cioè sto cane era uno dell'ultima stirpe Dei cani lavoratori Come il vecchio cane Charlie Che davano una mano Questo per esempio controllava la palestra Non era complicato Il cane era territoriale Se uno rallentava il ritmo Lui sapeva che doveva correre Perciò gli faceva lo scatto Gli abbaiava E nonostante l'età Il cane si faceva rispettare Arrivati al succo della questione Questo me fa Ma quanti anni c'ha sto ragazzino? Io faccio già sei anni E lui tutto detubbante E' come un serisco Io c'ho i corsi agonisti C'ho il corso così Ma io i corsi di ragazzini Dei sei anni non ce l'ho C'ho quello dieci Undici anni Però sarebbe un casino E io vi faccio guardi Io non è per cattiveria Però avremmo pagato il mensile E allora gli si illuminarono gli occhi Ah vabbè E si è pagato il mensile Il posticino lo trovamo Poi siamo andati a concordare sto mensile Un po' di sconto Dira qua Io mi sono allenato Conosco questo Tu conoscevi quello Alla fine Con tanta fatica Eramo riusciti a tirar fuori Un posticino Per sto ragazzino In un turno pomeridiano Accettabile A un prezzo accettabile Come è andata a finire questa storia E il padre il giorno dopo Già aveva cambiato idea Perciò se siamo fatti In viaggio a voto Abbiamo visto La palestra di Corviale Manco siamo entrati Dentro Corviale Ma ho conosciuto il maestro Che è una persona molto a modo E in particolare il cane Che era veramente un cane addestrato da paura E questo evento Mi aveva qualificato Agli occhi di questa persona Del mio quartiere Come uno che conosceva Corviale Viene e mi fa Oh senti Dimmi devi far un piacere Dimmi che te serve No dobbiamo accompagnare Uno ricco A Corviale E facciare il capito A me che me frega No ma guarda che c'è un sacco Dei vantaggi Perché accompagnandolo A Corviale Noi avremmo avuto Una sorta di pass Per mangiare gratis Nei locali dello zio Cioè se ci andavate Prendere un aperitivo Una cosa Dei cornetti Del pane Qualunque cosa Ci troviamo In un locale dello zio Noi con sto pass Avremmo mangiato gratis E devo dirvi la verità La cosa Mi stuzzicavano un po' Mi facciano Scusate Questo è il nipote De coso Sì quello che c'ha Tutti sti locali Cioè vuol dire Che se io vado A piazza Epicuro Entro Con sto coso Magno Magni quello che te pare Oh Accompagnamolo Ma te la conosci Corviale Ce sono stato una volta Sono andato alla palestra Ah palestra Lì Puggi Li menano Va bene Va bene Ma non è che gli ho detto Conosco tutti quanti Cioè lui gli serviva Comunque Un benestare Deci avemo uno Che è stato a Corviale Tanto Quello che doveva fa questo Chissà che era Io faccio Sì ma questo Deve fare No ma deve fare una commissione Pei cavoli su Non te sta preoccupa Sì basta che non succeda niente Ma no ma te pare Questo è un riccone Deve andare là Chissà se dovrà comprare qualcosa Lo so Però Che se va a comprare Questo a Corviale Ma che ne so Un pezzo della macchina La marmita Non c'ho idea Accompagnamolo E basta Così questo se sente tranquillo Appuntamento a Prati Partimo da lì Penna a Corviale Questo giustamente Era venuto Col macchinone E noi stavamo Con uno scooter In due praticamente Perché eravamo venuti Da una zona molto più lottana Lui partiva da Prati Figurate Noi con sto motorino Dietro Guida Che teleguida Arrivamo a Corviale Questo via Perché è già la macchina Come fosse il padrone Dobbiamo entrare qua Oh immaginate Oh ci vediamo a Corviale Dove? All'inizio A fine e mezzo A quale A quale ingresso No no Dobbiamo entrare qua Scendiamo tutti Tutti i tronfi Tutti i convinti Perché lui era convinto Che noi contassimo qualcosa Noi eravamo convinti Che lui contava qualcosa Essendo ricco A fine Nella convinzione totale Quelli che ci guardavano Intorno Dicevano Vabbè Se sono così convinti Probabilmente Qualche cosa De buono Ce l'avranno questi Entriamo dentro Questo chiede A dei ragazzini A ragazzini Ma c'è coso Erpifferaio Antonello Cioè Fa tutti i nomi Che non esistono No no Non conoscemo nessuno No perché devo annassù Arballatoio Già senti Arballatoio Qui mi suonava male Che devo andare a ballare Io ho fatto Borbotta A fine Gli dicono D'annassù Non mi ricorda Al terzo piano Al quarto piano Salivamo Ste scale Praticamente Da una parte Era chiuso Da una parte C'era scritto Non entrare Dall'altra C'erano pisciato Se non passavi Dall'altra C'è stavano Le sbarre Fatte proprio Attaccate Con scotch Arrivamo A sto famoso Terzo piano Do stava Questo che do Ancontro a lui State un attimo Qua perché Devo andare un attimo A parlare con questo Di alcune cose Vabbè Noi aspettiamo Ma te sei sicuro Sì sì Ma che boi Che deve fare questo Questo è un fio De papà Qua là A un certo punto Mentre aspettiamo Sentiamo un po' De rumore Brum Trambusto Eccetera Praticamente Si apre la porta Escono fuori Certi con dei tondini De ferro Oh ma che state Con quello E noi gli famo Sì l'hai M'accompagnato Ma che cazzo Mi è venuto in mente Faccio come che ci è venuto in mente Ma quello è proprio un deficiente Ma che ci è venuto a chiedere Ma che siete scemi Infatti guarda Noi l'abbiamo accompagnato Semplicemente perché Ci ha chiesto il piacere Questo poi è De Prati E se vede che è De Prati È un imbecille Che cazzo voleva fare Con i sordi Voi sono cazzi pure vostri Noi so guardate Ma noi non c'entriamo niente Gli famo Questi chitondini De ferro umano Noi così Io stavo già lì Peddamme Però sai guarda Il discorso Quelli come scappavi Se sanno andate a sbatte Che ne so Scenevi sotto Te trovavi A banda del Bronx L'uomo ragno de ferro De tutto e de più Allora ho cercato Un attimo a Calmagliani Cioè guarda Francamente Non so che cosa va chiesto E non mi interessa Però vi ripeto Siamo qua per accompagnarlo Sai come so Questi coi sordi Dice io da solo Non ce vuole andare a Corviale E ha fatto bene A farsi accompagnare Comunque Mo so cazzi pure vostri Oh già te l'ho spiegato E no perché mo Durandellate Ve le piate pure voi Per sta storia Caccola quando ci ha detto Durandellate Ve le piate pure voi Per sta storia E lì mi sono un po' preoccupato Dice guarda Io non vorrei dir niente Però siamo amici Del maestro Della palestra E gli faccio il nome Ah Vabbè Ma siete proprio amici Sì sì Guarda dovevamo segnare Per esempio Mi nipote in palestra Che deve diventare Tra l'altro Un bel pugile promettente Ah ma perché fate il pugilato Sì sì Famo pure il pugilato Io l'ho un po' Intortata Allora senti Fai una cosa A me fa questo Siccome siete amici De coso E siccome l'amico vostro In testa di cazzo Ma voi li portate via E gli dite Che stavolta Gli è andata bene Ma la prossima Rompemote brutto Tirano fuori questo Tutto mezzo marconcio Tutto zozzo Praticamente Non gli avevano menato Ma l'avevano sbattuto per terra E l'avevano presa a calci Che tra prendere Tondini di ferro in testa Pian po' de carci Rotolando per terra A mezza la zozzeria Francamente La seconda era meglio Quando siamo arrivati giù Noi gli dicevamo Oh tutto a posto Sì sì Tutto a posto Tutto a posto Famo guarda Ti accompagniamo giù alla macchina Sì sì Mezzo che piangiva Mezzo essere astranito Arriviamo sotto alla macchina Questo piangiva Monta macchina E schizza via Guarda amico mio Faccio senti Vabbè Siamo rischiata Siamo arrivati qua Boh sti famosi pass Per mangiare Chi ce li dà No no Non te preoccupare Domani vado io Me li faccio da Me li faccio da Nome mio A nome tuo Che c'è metto Che nome c'è metto Faccio c'è metti Simone Ma che non me conosci Sì sì no Per capire Magari io volevo un altro nome No Voyer Pass Famoso pass Che vada a sti locali E magno gratis Sta tranquillo Che con quello è sicuro Quello c'è un sacco di sordi Vabbè Siamo rischiata Però mi piò sto pass Ah oh Il giorno dopo E il pass in sé è visto I giorni successivi E il pass in sé è visto Questo praticamente Abitava in zona mia Ma andava sempre a Prati A Parioli Tutte quelle zone lì E non tornava mai Se non la sera Ho detto Senti Ma una sera Vado ad aspettare sotto casa Oh voglio sto pass Una sera questo qui Torna tutto tardi E faccio Oh ma li mortacci tu Ha so dieci giorni Che sto aspettare sto pass No ma lascia perdere Quello c'è avuto un guaio Ma che cazzo Gli aveva chiesto a quelli Ma che ne so Non si trova più Mi deve dar pass Pure a me E' sparito Quello se vede Che si è spaventato Ha preso E' andata a casa In Svizzera Ha detto Sta via due tre settimane Perché gli è presa male Desta storia Ho fatto capire Tutta sta storia Mi ha fatto fare Una scarpinata Un pomeriggio Rischiate le botte Per fortuna Che ho fatto il nome Lì del maestro Se no Scemenavano pure a noi Anzi Gli menavano a lui E in più Scemenavano a noi Che l'avevamo accompagnato Non si è mai capito Che cosa abbia chiesto Questo lì dentro Io francamente Non azzardo ipotesi Però sicuramente Avrei chiesto qualcosa Che a questi Non gli è piaciuto E questa è stata L'esperienza Che ci abbiamo avuto A Corvianzi Che ci ho avuto Perché quell'altra Era in testa De cazzo Quell'altra ancora di più E almeno il giro La palestra Che feci al tempo Cesar vuole chiappe Quella serata Se volete sapere Altre storie In particolare Sui quartieri di Roma Quelli un pochettino Più agitati Un po' più vivaci Scrivetemelo qui sotto Nei commenti Per il resto Vi aspetto Tutte le sere Sul sito Viola In diretta Cercate Cicalone Simone E mi trovate Ciao Bulli, ciccioni Sfigati, secchi e brutti Un colpo sotto Via giusta a tutti Se ti senti oppresso E da tratti un po' depresso Mangia bene Smettila di intasare il cesso E allora cosa faccio? E allora cosa faccio? E allora cosa faccio? E allora cosa faccio? Colpo sotto Ti piego e ti smonto Colpo sotto